Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo aggiornamento video su Crypto Investing Guide oggi parleremo di NFT e nel dettaglio di un fork di OpenSea le informazioni all'interno del sito nftsea.net sono quelle che NFTSea è un fork di OpenSea allo scopo di eliminare i difetti intrinsechi di OpenSea semplificando la soglia dell'utente, fornire supporto cross blockchain e fornire tariffe più basse per migliorare l'ecosistema NFT e diventare il mercato NFT più grande e soprattutto di riferimento con un più basso e più completo costo di blockchain ora NFTSea sarà guidato e governato dalla community e i membri principali della community sono composti dai migliori investitori nel campo NFT naturalmente NFTSea non è affiliato con OpenSea ma li ringraziamo per i loro contributi allo sviluppo del campo NFT loro offriranno una sorta di token NS, questo token sarà dato dalla governance del sito stesso con un'emissione totale di 3 milioni di pezzi e quindi avrà lo scopo di creare una moneta ad alto prezzo per attirare popolarità con un 20% di token NS per l'eldrop della community gratuito e distribuiti gratuitamente agli utenti della community 60% dei token NS per la pre vendita e il prezzo di pre vendita sarà fisso a un Ethereum uguale 10.000 NS al termine di questa pre vendita gli NS sarà quotato su borse come Binance, Wobi e Coinbase il prezzo di quotazione stimato è di 100 dollari ANS a token simbolo NS, indirizzo del contratto che potrete caricare su Metamask sarà questo il decimale 18, offerta totale 3 milioni quindi un valore abbastanza limitato blockchain Ethereum RC20 quindi naturalmente c'è il white paper, avete qui l'indicazione della pre vendita prezzo di vendita ad un Ethereum 10.000 NS e l'eldrop come fare per ottenere gratuitamente i vostri drop? Io vi metterò il link in descrizione del video utilizzandolo potete ottenere 10 NS subito e potrete fare lo stesso naturalmente utilizzando anche il vostro referral code con i vostri amici se non ricordo male potete ottenere fino a 50 amici quindi per un totale di 10 per 50, 500 NS complessivi naturalmente se lo farete e utilizzerete il mio referral link vi ringrazierò perché almeno sosterrete il canale anche in questo modo quindi vi ringrazio sicuramente del vostro supporto bene naturalmente tutto quanto è indicato in questo sito non c'è molto da dire, bisogna attendere 14 giorni per poter iniziare ad utilizzarlo naturalmente per il air drop finale sarà dato proprio da 14 giorni cioè avete tempo 14 giorni per fare l'air drop qui la pre vendita se volete comprarli se invece volete ottenere soltanto quelli gratis che vi viene fornito dall'air drop cliccherete su air drop o meglio non dovrete cliccare, vi comparirà direttamente la pagina grazie al mio referral link e qui dovrete inserire il vostro indirizzo Ethereum quale dovrete utilizzare? io naturalmente per poter utilizzare il vostro indirizzo dovete installare Metamask come browser all'interno del vostro browser e possibilmente vi suggerisco di utilizzare l'Ethereum address l'indirizzo Ethereum non di Metamask in genere ma del vostro ledger perché in questo caso tutto quello che confluisce all'interno di NFT complessivo anche di possibili token cioè scusate NFT, dei non fuggible token che andrete ad ottenere come quelli anche della DC che spero avrete già ottenuto come air drop li potrete caricare direttamente tutti sulla ledger e quindi poi potrete vederli all'interno di questa piattaforma speriamo che sia fantastica e anche migliore di OpenSea spero che questo video sia stato utile per voi mi raccomando utilizzate il mio referral link ve ne ringrazio tanto in anticipo ciao e alla prossima